In Aurora, il marito Ansas sta meditando se mettere in atto il piano suggeritogli dalla sua amante per liberarsi della moglie Indre, invitarla ad una gita sul lago e una volta a largo spingerla in acqua e affogarla. In questa scena lo troviamo in preda e tormenti. La fascinante donna di città lo ha ammagliato e non riesce a togliersela dalla mente. Lo vediamo avvicinarsi alla giovane moglie. Cosa ha deciso? Vuole davvero ucciderla? Oppure si è pentito e le dichiarerà finalmente di amarla ancora? Ed ecco che entra in scena la maestria di Murnau, che si sofferma unicamente sulla reazione della moglie. Sorride. Che cosa gli avrà detto il marito di così bello? Murnau non solo non ce lo dice, ma interrompe bruscamente il momento, mostrandoci la baglia che gioca con il bambino in un'altra stanza. Indre entra ed è al settimo cielo. Finalmente il suo amato Anses mostra di provare ancora qualcosa per lei. L'ha invitata infatti ad una romantica gita sul lago. Noi sappiamo che cosa significa davvero. Anses ha deciso di ucciderla. E la gioia incontenibile di Indre, ignara del reale significato di quell'invito, è un colpo per lo spettatore, che rende la scelta dell'uomo ancora più terribile e dolorosa. Se Murnau si fosse limitato a mostrarci l'uomo, invitare al lago la moglie, non avrebbe fatto altro che confermarci quello che già sospettavamo. Scegliendo invece di staccare e di tenerci celata la sua decisione, mostrandoci solo la gioia della povera Indre, così felice per quelle ritrovate attenzioni, noi spettatori finiamo per provare un'istintiva empatia nei suoi confronti. Vorremmo avvisarla che non c'è nulla di cui gioire, di non andare con lui, e odiamo ancora di più Anses e la sua amante. È bastata una scelta di montaggio e tutta la sequenza ha acquistato una potenza senza pari.